Veneto Agricoltura Veneto Agricoltura collaborano per impostare delle attività sperimentali che Veneto Agricoltura utilizza per la divulgazione, mentre l'Università utilizza questi dati per le pubblicazioni e la ricerca in generale. Dobbiamo dire che la vision è stata una vision di prospettiva che ha colto sicuramente le esigenze future che ha il mondo, pensiamo alle agende 2030 e poi quella successivamente 2050 e in tutti i suoi temi della sostenibilità, della necessità della biodiversità, nel fare il sistema con il sistema dell'agricoltura, quindi con noi associazione di categoria, è stato un progetto che secondo me va verso la strada giusta. Ci sono degli aspetti molto importanti che sono stati colti, che sono degli aspetti che non dipendono da noi ma dipendono da altri come i cambiamenti climatici, quello che è la riduzione delle emissioni di carbonio in atmosfera. Ci sono dei programmi fortemente evoluti a livello europeo che vanno nella direzione di un'agricoltura più sostenibile. I giovani cosa chiedono in più all'agricoltura ma soprattutto agli enti come Veneto Agricoltura? Chiedono la possibilità di lavorare, la possibilità di sviluppare delle idee innovative che oggi vengono tanto quanto dai giovani che fanno parte dei figli degli agricoltori ma quanto anche da parte di chi invece non è figlio degli agricoltori ma vuole affrontare il mondo dell'agricoltura.